Ma io posso insegnare a mia sorella come si fanno a schiacciare il tallone? Devi girare tre volte, fai tre giri, tre giri, fa come vuoi, basta che fai tre giri, brava, contagli a tre, ed esprimi il desiderio. Sì, chiudi gli occhi e esprimi il desiderio. Faccio quattro? No, basta. Mo' devi esprimi il desiderio. Espresso. Espresso. I Pottini, non so se avete visto che li hanno riconosciute i fan a Milano. Questa è la nostra perlina, foto da photoshooting. Questi sono i panini postati da Paolo Masella e Letizia. Questa è Angelica Baraldi Comer, da piccolina a sette anni, guardate che bambolona è diventata adesso. Questo invece è il weekend di Mirko Brunetti, se ne è andato in montagna. Eccolo qua, beato lui, sole, e posta questo healthy food. Bene, vi lascio così, ci vediamo al prossimo aggiornamento sul Grande Fratello. Voi magari, come sempre, lasciateci un like, un bacione, ciao!